Serata finale al Ronca City Playground e qui sul divanetto alla mia destra abbiamo il piacere di festeggiare un doppio debutto Debutto ai microfoni di Panorama Basket ma anche debutto in un evento pubblico legato alla pallacanestro nei panni di nuovo assessore allo sport del comune di Forlì Sto parlando ovviamente di Kevin Bravi a cui do il benvenuto qui a Panorama Basket Kevin siamo in un contesto festoso in un contesto che ovviamente parla della passione che c'è per lo sport e la pallacanestro in particolare in questa città E' ovvio che tu da assessore allo sport devi avere un'attenzione particolare e speciale a tutte le discipline che si pratichano in città individuali e di squadra Per cercare di valorizzarle per cercare di creare le condizioni affinché tutti soprattutto i giovani possono praticare lo sport che più amano Però è innegabile che la pallacanestro in città abbia una vocazione, un ruolo diciamo particolare, storico, privilegiato Io voglio partire da capire che ruolo fin da ragazzo eventualmente ha avuto per te la pallacanestro L'hai praticata, sei stato un tifoso presente sugli spalti, un semplice appassionato che si informava di come andavano le cose Raccontaci un po' Intanto grazie, grazie dell'invito, è veramente un piacere essere qui con voi stasera con tantissimi volontari a quella che è l'ottava edizione di un torneo importantissimo per la città e soprattutto per questa zona Il basket ha per tutti i forlivesi un ruolo importantissimo o da giocatore o da tifosi Nel mio caso l'ha avuto più da tifoso perché io vengo più dal mondo del calcio, ultimamente al mondo dell'arbitraggio Però è innegabile che la classica partitella a scuola non mancava mai Di recente mi sono appassionato ancora di più, quindi con le visite al palazzetto sempre più frequenti per cercare di sostenere la squadra della città di Forlì Oggi è innegabile che la presenza del basket nella nostra società sia un fulcro stabile Una società che si fonda sulla condivisione di valori che si trovano sicuramente in questa disciplina Ecco, è praticamente una sorta di identità collettiva del forlivese, quella che si crea attorno alla palla spicchi Io vorrei sapere secondo te che cos'è che rende appunto, l'hai detto te, valoriale, così speciale questo sport per la nostra comunità Ma guarda, sicuramente faccio sempre un esempio rispetto al calcio Intanto c'è l'opportunità di giocare con meno giocatori Quindi anche i piccoli gruppetti che si incontrano tra di loro hanno l'opportunità subito di mettersi a giocare Anche i classici 3 contro 3 o gli 1 contro 1 Quindi c'è sempre un'opportunità in più quando servono meno giocatori per attivare un incontro E poi soprattutto la passione, la passione per la squadra della città Che sicuramente in questi anni ci ha fatto appassionare in vario modo E quest'anno ne è stata la prova Ecco, siamo in questo contesto che si definisce in gergo contesto di playground Ci sono due campi bellissimi e sfruttatissimi per tutta l'estate Perché ci si disputano camp, si fanno tornei, tante iniziative E proprio in virtù di quello che hai appena detto E per non parlare soltanto, come faremo tra poco, del fior all'occhiello che è il paragalassi Ma di tutto, diciamo, quella realtà diffusa di impianti sportivi e di playground come questo Non credi che Forlì avrebbe bisogno forse di più campi all'aperto, di palestre Ancora più funzionali e adeguate per poter dare la possibilità di praticare anche questa disciplina Che cosa hai in animo nel tuo progetto quinquennale da assessore da questo punto di vista? Assolutamente sì, è innegabile che noi abbiamo su alcune realtà un valore aggiunto Che mettono in campo sì i gestori, che poi chi va ad affittare l'impianto con migliorie continue Come è altrettanto innegabile che ci siano tantissime strutture che hanno bisogno di assistenza immediata Per essere ripristinate, strutture che ospitano anche migliaia di ragazzi durante la settimana Quindi noi dobbiamo partire da queste, mettere in sicurezza dove c'è da mettere in sicurezza E parallelamente appena si potrà andare ad investire sul valore aggiunto Che strutture come queste regalano a tutta la città e anche una zona particolare come questa Che ha veramente un bacino di utenti straordinari Ovviamente alle tue spalle c'è un cartellone che porta i loghi di tantissimi sponsor Ovvio che il comune non può sostenere finanziariamente in modo diretto le società sportive Ci sono tante realtà imprenditoriali che in maniera benemerita lo fanno Però come può, al di là di quello che è appena detto, cercare l'amministrazione comunale di venire incontro Dalla Serie A2 della Palacrares 2.015 alle realtà come ECS e tutte le realtà minori che appunto fanno sport in città Sempre più un approccio imprenditoriale, quindi cercare di andare a collegare quelli che sono i vari stakeholder Con le varie società, con i vari gestori È molto importante perché come hai detto giustamente tu hai centrato perfettamente l'obiettivo Non si può pensare che zone come queste che hanno veramente dei valori aggiunti Perché hanno dei campi di livello straordinario e tantissime altre zone della città Che invece hanno necessità urgenti di essere ripristinate possano appoggiarsi integralmente sul comune Quindi andare a valorizzare quelli che sono i gestori con un'attività anche di connessione tra le varie imprese del territorio Come hai detto tu, questo è straordinario quello che c'è qui dietro Perché si vede il valore aggiunto che imprime la gestione di questo posto E che fa comprendere anche all'esterno qual è il valore Perché questi sponsor vengono perché viene compreso il valore di quello che c'è Noi possiamo fare da collegamento, io vengo dal mondo dell'impresa, sarà sicuramente una mia priorità Quindi l'erogazione singola fatta dal comune può essere un piccolo tappo messo in quel momento Ma non è assolutamente la soluzione, noi dobbiamo creare soluzioni E questo vuol dire anche soluzioni strutturali che possono creare dei punti anche stabili e duraturi nel tempo Prima ho citato una parolina magica che è Serie A2 Il 29 di settembre inizierà il campionato più atteso da tutti i forlivesi Quello della Palacanestro 2.015 inizierà in un contesto rinnovato Almeno parzialmente rinnovato che è quello del Palagalassi Tutti si è insediato da poco, il progetto che è ereditato è della precedente amministrazione Ma sono iniziati da pochissimi lavori di riqualificazione dell'impianto Prima di tutto ti chiedo, è considerato tuttora uno degli impianti più belli d'Italia? Però obiettivamente ha 37 anni di vita In 37 anni di vita non sono state fatte, non è stato sottoposto a un maquillage Ne aveva bisogno? Ne aveva tantissimo bisogno È chiaro che noi abbiamo avuto un'opportunità enorme come Comune E anche delle capacità enormi Perché siamo andati a sfruttare tutte le opportunità date dal PNRR Lo abbiamo fatto in questo caso in maniera straordinaria Perché voi pensate ad un investimento globale di 2.280.000 euro Di cui 1.4.000 sostenuti dal PNRR Fatti tra l'altro in tempi record Proprio per garantire l'opportunità alle squadre di giocarci da subito Quindi noi quest'anno andiamo a seguire una metà dei lavori L'anno prossimo faremo l'altra metà Ci sarà una riqualificazione importante di tutto l'impianto di illuminazione Che ne va sicuramente bisogno E ci sarà un lavoro anche per la comunità degli spettatori E anche per la qualità di come si vede il gioco Con delle poltrone nuove che daranno sicuramente un valore aggiunto Per entrare nel dettaglio proprio su questi aspetti Ti voglio chiedere con quale finalità vengono fatti questi interventi Che cosa vorrebbe essere, potrebbe essere, forse dovrebbe essere Il Palagalassi o Palafiera come lo chiamano tuttora i forlivesi del futuro Un centro di aggregazione straordinario Quindi dobbiamo pensarlo veramente capace di poter ospitare Trasversalmente qualsiasi tipo di iniziativa Abbiamo l'opportunità di avere sì Una struttura che ha più di 30 anni di vita Ma che con un adeguamento come verrà fatto adesso Come lo stiamo già facendo Darà veramente un valore aggiunto a quelle che saranno le prossime iniziative Hai detto lavori in due fasi successive Entriamo poi nello specifico ovviamente Cosa si potrà già realizzare da qui all'inizio del campionato Quindi da quel 29 settembre che ho citato prima Questa prima tranche di lavori in cosa consiste? Io sono andato da subito, come mi sono insediato Sono andato con l'assessore Cicognani a vedere sul posto Perché mi piace farlo L'assessore Cicognani è preparatissimo Quindi mi piace anche seguire persone così preparate Da quel punto di vista Abbiamo già visto una buona parte di lavori Che sono completati Sono in fase di lavorazione molto avanzata Quindi tutto l'impianto illuminazione Ha già subito una valorizzazione importante E già abbiamo visto i primi strapuntini I primi sedili nuovi Che non saranno soltanto i sedili delle prime file Quindi la parte gold, la parte rossa Ma anche quelli delle parti più alte del terreno Compatibilmente con gli impegni di campionato sportivi Ma casomai non solo Perché si spera che come hai detto te Si è un centro di aggregazione Quindi anche gli spettacoli possono avere dimora In questa struttura così importante I lavori proseguiranno più o meno anche durante l'anno Oppure ci sarà uno stacco per poi riprendere nell'estate 2025 I lavori più importanti verranno fatti l'estate prossima Poi compatibilmente con quelle che saranno Le problematiche riscontrate sulla prima installazione Si potranno fare anche dei lavori di poco conto Nel periodo in cui il Palagalassi non viene utilizzato Ecco però io mi auguro che il Palagalassi venga utilizzato tantissimo E quindi non ci siano tutte queste opportunità Per avere quindi tutto pronto definitivamente per il 2025-2026? Si, fine dell'anno profi Diciamo all'inizio della stagione Al settembre 2025 deve essere completato integralmente Due domande per chiudere su alcuni aspetti proprio specifici Una ad esempio tu hai parlato dell'impianto di illuminazione In molti Palasport d'Italia è anche un'illuminazione scenografica Che permette anche di fare tante cose a livello proprio di presentazione degli eventi C'è anche l'impianto di riscaldamento un po' energivoro Come si dice è un impianto audio che è stato spesso criticato Interverete anche su quello? Allora in questa fase sicuramente stiamo valutando un po' tutto Diciamo che l'urgenza e la messa a disposizione dei fondi da parte del PNRR Ci limitava ad alcuni campi di azione Consideriamo che è vero È molto energivore l'impianto di riscaldamento, di climatizzazione Ma è un po' più recente rispetto ad altre cose che devono essere sostituite Abbiamo parlato di grandi eventi oltre allo sport Il peso che dava alla struttura che c'è ora sul soffitto Quindi sia dell'illuminazione vetusta sia di vecchi impianti Ancora più energivoli dell'attuale dal punto di vista della climatizzazione e del riscaldamento Verranno completamente rimossi Quindi ci basti pensare proprio banalmente All'artista che si vuole appendere sul soffitto per fare uno spettacolo Adesso ci saranno molte più opportunità da quel punto di vista E chiudo con la domanda forse più pepata di tutte Perché hai detto e lo sappiamo Verranno cambiate tutte le sedute Quindi ci saranno poltroncine sicuramente più comode Sicuramente anche più eleganti se non erro di colore nero E ciò comporta anche una diminuzione dei posti Molti tifosi su questo qui sono un po' con le antenne dritte Dal nostro punto di vista cercheremo di fare tutto il possibile Affinché la comodità si fonda con la quantità di posti disponibili Chiaro che sono valutazioni che sono da fare Quando la qualità dà il valore aggiunto comunque sulla quantità Si deve in qualche caso preferirla Parliamo comunque di una squadra ai massimi livelli Che deve avere uno stadio all'altezza E avere uno stadio all'altezza passa da queste piccole attenzioni Quindi c'era massima attenzione per tenere lo stesso numero di sedute rispetto ad ora Però non tutto è pianificabile allo stesso modo Certamente Però aspettiamoci di entrare già adesso a ottobre Il 29 settembre eventualmente se la prima fosse in casa In un Palagalassi Già con un volto parzialmente nuovo E sicuramente più accogliente Sicuramente Grazie ancora